Fine della latitanza dopo circa un anno per il pregiudicato Francesco Ferro, autore di furti e rapine in tutta Italia. Il 32enne è stato catturato a Venafro dai carabinieri e condotto in carcere a Ponte San Leonardo di Isernia. Originario di Bucarest, si era nascosto per un periodo di tempo proprio in Romania dopo il furto perpetrato in provincia di Firenze nella villa della Contessa Branca. Le indagini delle forze dell'ordine, ad ampio raggio, hanno accertato a carico di Ferro inoltre il furto di assegni bancari per 10.000 euro sottratti in una chiesa in Friuli e di 6.000 euro rubati in un'abitazione in Alto Molise. L'ordine di carcerazione è stato eseguito dai militari del reparto provinciale di Isernia. Sempre per furto i carabinieri hanno denunciato due campani di Mondragone, sorpresi ad asportare indumenti dai cassonetti della Caritas a Montaquila. A carico dei due casertani, le forze dell'ordine hanno provveduto al sequestro del furgone adibito al trasporto dell'area furtiva e di numerosi attrezzi utilizzati per forzare le serrature. Secondo i militari, due giovani malviventi potrebbero essere gli autori di numerosi altri furti commessi di recente a cavallo tra le province di Isernia e Caserta.